Più informazioni ai cittadini e più sostegno agli agricoltori, anche obbisti, perché sia chiaro che con la presenza dell'orso bisognerà fare i conti a lungo. Questo è emerso dal vertice tecnico-istituzionale promosso dal presidente della provincia Elio Moretti per discutere degli effetti della presenza del grande predatore sul territorio. Nelle ultime settimane il plantigrado infatti si è reso più volte protagonista di incursioni nella zona del Mortirolo, predando diverse pecore. Una situazione di disagio per residenti e proprietari di baite e case a cui l'orso si è avvicinato pericolosamente scendendo a basse quote in cerca di cibo. Di qui l'appello per un intervento di emergenza lanciato dal presidente della comunità montana di Tirano e sindaco di Grosio Gian Antonio Pini, presente all'incontro con i colleghi di Grossotto e Mazzo, Giuseppe e Franco Saligari, la presidente di Coldiretti Sondrio, Silvia Marchesini e il rappresentante della prefettura, Bruno Tonio. Maria Ferloni, tecnico faunistico provinciale, ha illustrato i diversi aspetti relativi alla presenza dell'orso sulle Alpi, i pericoli e i possibili sistemi di protezione. La provincia ha ribadito che c'è la possibilità di chiedere alla regione il rimborso per tutti i danni subiti, dichiarandosi inoltre disponibile a valutare la possibilità di attivare un bando di contributi in favore di eventuali agricoltori obbisti che non possono accedere ai contributi comunitari per l'acquisto di recinzioni elettrificate da usare come sistema di prevenzione di danni agli ovi caprini. L'analisi della situazione ha evidenziato come, a seguito del progetto di reintroduzione dell'orso effettuato negli anni 2000 in Trentino e a causa degli inevitabili sconfinamenti dalla zona dell'Adamello, come verosimilmente anche in questo caso, la sua presenza nelle nostre zone non sia più da considerarsi un evento eccezionale. Dal 2007 ad oggi oltre 20 giovani orsi sono transitati sul territorio valtellinese e la tendenza è destinata, seppur con tempi relativamente lunghi, ad aumentare. Dopo avere sottolineato i danni arrecati dall'orso agli agricoltori e la conseguente preoccupazione che ha causato nella zona del Mortirolo, tutti i partecipanti all'incontro hanno convenuto sull'importanza di attivare anche un piano di informazione e divulgazione in favore della popolazione nelle zone dove è maggiormente frequente la presenza di di questa specie.